Siamo all'Università degli Studi di Salerno, siamo in compagnia di Giuseppe Tesauro che è Presidente Merito della Corte Costituzionale. Il dialogo fra le corti è una cosa seria, purché sia un dialogo e non un monologo si può andare tutti d'accordo perché poi in effetti l'obiettivo sia della Corte di Strasburgo che delle corti costituzionali che della Corte di Lussemburgo, dell'Unione Europea, è un obiettivo talmente nobile che non presta il fianco a incidenti di percorso, è la tutela dei diritti fondamentali della persona, quindi su quello ci sono responsabilità diverse ma l'obiettivo è unico e perseguito con grande passione.